Buongiorno e ben ritrovati, giovedì 8 aprile. Venite anche oggi ad abbeverarvi alle fonti. L'ospite di oggi ve lo voglio introdurre facendo vedere le copertine e i libri, perché se no succede come quelle librerie che si vedono in molti collegamenti. Adesso tutti noi ci colleghiamo con alle spalle le librerie. In qualche caso vi posso assicurare che ho visto librerie alle spalle di persone che so che non leggono un libro dai tempi di Pinocchio, credo. E in qualche caso i libri erano addirittura ricompensati, perché riflettevano la luce delle telecamere. Ma detto questo, l'ospite di oggi, io l'ho conosciuto, tempori busillis, avevo anche la prima edizione di questo libro, che poi nel 2008 è diventata un'edizione aggiornata. Eccola qua, se lo vedete, è Perché siamo antipatici. Quindi parliamo di, questo ripeto, aggiornata al 2008, ma è la prima edizione del libro del 2005. Ce l'ho da qualche parte. Poi, ad esempio, sempre dello stesso autore, ho qui l'arte, come vedete, purtroppo, in cui noi italiani siamo molto abili a livello di classe politica, l'arte del non governo. Da Prodi a Berlusconi ritorno. Poi, ad esempio, sempre pescando nella mia libreria, libri che mi compro, lo dico perché evidentemente né la Mondadori né la Longanesi mi ritengono possibile destinatario delle loro promozioni, ma viene così. Mi piace andare nelle librerie, lo so, dovrei dire che leggo i libri sul tablet. No, mi piace la libreria, mi piace il contatto fisico con la carta, mi piace scambiare delle opinioni con le persone che lavorano nelle librerie, che mi segnalano le novità. Luca Ricolfi, eccolo qua, Illusione Italiche. E poi, Luca Ricolfi, Sinistra e Popolo, a proposito del dibattito fra l'elite, il popolo, il populismo, il populismo di ritorno. Da qualche parte ha anche l'ultimo suo libro, per la nave di Teseo, che è la società signorile di massa. A questo punto posso introdurre alla vostra attenzione il professor Luca Ricolfi. Buongiorno, professore. Buongiorno. Mi scusi, ho fatto vedere, anche perché così mi posso tirarmela come uno che legge libri. Poi, magari, come spesso capita, non tutti i libri che si hanno in casa uno li ha letti. I suoi, con grande piacere, anche perché Luca Ricolfi, per quei pochi che non dovessero sapere chi è, un sociologo, un politologo, un accademico. Se vi perdete i suoi articoli sulle diverse testate a cui collabora, sappiate che potete andare a leggerlo sul sito della Fondazione IUM, fondazioneium.it, dove trovate i suoi contributi. IUM con l'H, dobbiamo sempre dirlo, perché non tutti pensano al filoso. Hai ragione, allora, Fondazione HUM, U-M-E.it, così siamo sicuri che non si sbaglino, li potete leggere lì. E sono contributi che, essendo lui un sociologo, un politologo, ah, tra l'altro ho trovato scritto psicometrico, professore. Che cos'è la psicometria? La psicometria è quella parte dell'analisi dei dati più utilizzata dagli statistici, dagli psicologi, mi scusi. Quello che lo caratterizza è che lavora con variabili nascoste e si pone dei problemi di misurazione mentale, per esempio misurare quanto sei intelligente, quanto sei estroverso, come percepisci un partito. Tutti i processi mentali li studiamo con tecniche che si chiamano psicometriche, perché sono tecniche che interessano soprattutto gli psicologi. C'è proprio una matematica di questo tipo di processi mentali. Grazie della spiegazione. Come vedete, tra l'altro, alle spalle del professor Ricolfi, a conferma del fatto che non è necessario avere dei libri alle spalle per sembrare intelligenti, lui, libri alle spalle, non ce l'ha. C'ha alcune foto di panorami, skyline, credo, diversi e il soffitto di casa. Allora, professore, bando alle ciance. So che lei, negli ultimi tempi, si è occupato anche, non solo, perché ho letto un suo contributo, ad esempio a proposito delle vicende del Partito Democratico, Zingaretti, da vicendamento, poi ne possiamo parlare, però molte sue analisi degli ultimi tempi sono rivolti al Covid, al Covid inteso come parola onnicomprensiva sotto il quale c'è una pandemia. Sì, su questo ho fatto anche un libro che si chiama La notte delle ninfee e che è proprio dedicato alla crisi del Covid. Anche questo con la nave di Teseo è uscito da pochi mesi. Ha ragione, tra l'altro con una distinzione cromatica, perché uno con la copertina rossa, l'altro con la copertina bianca, perché so che Elisabetta Sgarbi è molto attenta anche, diciamo così, a questi particolari, a questi dettagli. Tra l'altro Elisabetta Sgarbi dovrebbe essere nostra ospite prossimamente, avremo modo di parlare di lei, del film che riguarda la sua famiglia. Ma comunque, chiudiamo. Ha detto a proposito del Covid, dicevo, c'è la pandemia sanitaria e poi c'è la pandemia economica. Io ne ho sempre aggiunto anche un altro, professore, l'infodemia, cioè la pandemia che ha colpito l'informazione, perché a un certo punto siamo tutti noi, pennivendoli, immersi nella gestione di dati che spesso sono confusi nella loro interpretazione, non si sa come vengono raccolti, non si sa come vengono smistati, persino sui vaccini, tema su cui lei è intervenuto e intervenuto. Intanto a oggi, che fotografia è quella che abbiamo, di come stiamo gestendo questa fase, che dovrebbe essere la terza ondata in decrescenza, pare, pare. Prego, professore. No, in realtà, sì, è la terza ondata, ma la decrescenza per adesso c'è soltanto sui casi ufficialmente accertati. Non c'è sui morti, i morti sono tuttora in aumento. Siamo in una fase molto balorda perché abbiamo una campagna vaccinale che sta arrancando molto. Ieri, in questa nuova trasmissione di Brindisi, io ho presentato una stima di quanto ci è costata la scelta di non vaccinare per primi gli anziani e per anziani io non intendo quelli vecchi come me, ma quelli molto più vecchi di me. Io ho 70 anni, vado per i 71, ho un figlio vaccinato, trentenne, io non sono vaccinato e una parte considerevole degli ottantenni non è vaccinata. Allora, ieri io ho fornito in questa nuova trasmissione di Brindisi questo dato. Scusi, professore, per chiarire perché ci sta ascoltando, Brindisi non la provincia. Ah, scusate, scusate. No, lo dico perché lei dice la trasmissione di Brindisi è giustamente, no, ormai... Non è nazionale. Ecco, no, no, ormai le piattaforme sono così tante che ci potrebbe essere una piattaforma di Brindisi, la località, il collega di Rete4 che ieri sera ha debuttato con un nuovo talk show di Mediaset che si intitola Zona Bianca, mi pare. Esatto, sì, sì. Allora, dicevo, mi hanno chiesto di fare il calcolo di quante morti avremmo risparmiato se fossimo partiti dagli anziani veri, cioè quelli che hanno più di 80 anni. Il risultato, mi spiace di doverlo dare, lo ripeto qua, è che sono circa 6-7 mila morti in più al mese, quindi su due mesi sono 10-15 mila morti per i quali dobbiamo dire grazie soltanto alla tempistica della campagna vaccinale, quindi sia a Conte che a Draghi, perché dopo tutto Draghi è in carica da due mesi, quindi non si può dire che sia appena arrivato, è la campagna vaccinale che è appena partita, però tuttora non ci sono indicazioni rigide, le regioni fanno un po' quello che vogliono, risultato abbiamo circa perso almeno 10 mila morti. Che ci saremmo potuti risparmiare. Oltre a tutti quelli che naturalmente ci saremmo potuti risparmiare prima con scelte differenti. Nel mio libro La notte delle ninfei ho fatto una stima per la prima ondata di 20 mila morti di troppo, nella seconda ondata di altre tanti morti di troppo, adesso se ne aggiungono questi 10-15 mila, diciamo che due terzi dei morti erano facilmente evitabili. Sì, tra l'altro io non ho capito e continuo a non capire, per carità noi ci siamo spesso occupati, io come Iena Dattilografa, il professor Ricolfi come stimato e accreditato sociologo, delle questioni connesse al federalismo, alla ripartizione dei poteri e delle competenze fra lo Stato centrale, le regioni, la Lega soprattutto, ma non soltanto la Lega, ha sempre fatto un tratto distintivo della sua mission, quello di instaurare un federalismo vero, totale. E infatti la sinistra che spesso va a rimorchio della destra quando teme che la destra stia per vincere, e magari a mani basse, lo dico per chi non se lo ricorda, è stata la sinistra, il centro-sinistra, avarare la riforma del titolo quinto della Costituzione. Ricordo male, eravamo in vista delle elezioni politiche del 2001, in cui si diceva che Berlusconi avrebbe stravinto, allora per togliere alla campagna del centro-destra il tema del federalismo per cercare di recuperare consensi, visto che i sondaggi erano negativi, centro-sinistra da solo, nel senso che decise di modificare la Costituzione, lo dico perché poi il centro-sinistra, quando non decide lui, dice che le riforme devono essere concertate. In quel caso non concertò un bel niente, fece la riforma e il risultato è, più o meno adesso, che le regioni vanno in ordine sparso. Quando l'unica cosa che si potesse, tra l'altro, mi corregga il professore se sbaglio, in realtà nella Costituzione c'è scritto che in caso a questa distribuzione lo Stato può derogare e intervenire in prima persona, perché se avesse introdotto un criterio che a me sembrava ovvio, criterio anagrafico, signori e signori, ve lo diciamo urbi e torbi, si parte dai 95 anni, poi si fa i novantenni, gli 85, gli 80, al netto delle categorie del personale medico, gli infermieri, il personale sanitario, che sono quelli a diretto contatto con i malati negli ospedali. Invece abbiamo scelto un'altra strada. Sì, la Costituzione prevede che la profilassi internazionale, che vuol dire proprio questo, la gestione di epidemie, sia in carico allo Stato centrale. Lo Stato centrale non voleva prendersi la responsabilità e credo che appositamente abbia lasciato una parte della responsabilità alle regioni anche sul versante delle riaperture, però c'è da aggiungere che avrebbe dovuto, se voleva prendere il comando, provvedere con l'anagrafe vaccinale, cioè bisognava che qualcuno, si può fare benissimo con le liste elettorali, con i dati Istat, predisponesse un'anagrafe vaccinale con un ordine di chiamata e che la gente venisse chiamata in base a un preciso ordine. Questo non ci ha minimamente pensato né Speranza né Conte e quando è arrivato Draghi probabilmente era troppo tardi. Sì, e neanche Arcuri. È vero che Arcuri era il commissario alla gestione materiale dell'emergenza, però io ci metto pure Domenico Arcuri, che conosco peraltro, perché sì, abbiamo avuto una gestione… Ma guardi, io Arcuri non lo menziono soltanto perché ne ha combinate già talmente tante che non ho voglia di imputarne la 101esima. La cosa più grave secondo me è stata la politica dei tamponi, che è stata del tutto insufficiente, noi abbiamo passato mesi e mesi come Fondazione IUM a tallonarlo sui tamponi, ma poi l'altra cosa gravissima, il non controllo delle mascherine. Una parte dei morti che noi abbiamo avuto in quest'ultimo anno sono il frutto di mascherine farlocche, nessuno lo dice, ma è abbastanza evidente che se una quota non trascurabile delle mascherine era farlocca, c'è della gente che ha girato per gli ospedali, nei negozi, in luoghi chiusi con mascherine farlocche e se l'è preso perché alla mascherina era così. Ora questo è tipico della cultura dell'Italia, quando c'è un problema si controlla soltanto che tutte le carte siano in regola o apparentemente in regola, ma non vengono fatti controlli fisici. Hanno pensato soltanto adesso di affidare ad un'impresa il controllo di qualità ma sostanziale della mascherina, non che tutti i certificati fossero in ordine. Guardate che così anche in edilizia, se tu devi fare una ristrutturazione, la cosa fondamentale è che abbia tutte le carte in regola, l'ispezione non viene fatta, non vengono a vedere se gli operai lavorano con le misure di sicurezza, guardano che tutte le carte che devi avere per fare una ristrutturazione siano in regola, perché noi abbiamo una cultura formalistica, andiamo a controllare le carte, non la sostanza. Solo che in questo caso ci è costato, secondo me, altre migliaia di morti, non si riesce a fare un calcolo, io non ho gli strumenti perché non ho i dati, però mi sembra difficile immaginare che meno di qualche migliaio di persone siano morte perché Alcuri non ha controllato le mascherine e la cosa straordinaria comunque è che nessuno rende conto, noi abbiamo degli errori che sono costati alla popolazione decine di migliaia di morti e nessuno viene chiamato a rendere conto, la magistratura se la va a prendere con il medico che ha vaccinato uno che poi ha avuto una reazione avversa e tutta invece la classe dirigente che è responsabile del disastro di questo paese, che è un disastro anche economico perché tutto è connesso, nessuno viene chiamato a rendere conto, si invoca la discrezionalità della politica, ma non ci può essere la discrezionalità di far morire a persone che si possono salvare, a mio parere perlomeno. Sì, poi la discrezionalità della politica corrisponde in maniera speculare alla discrezionalità talvolta della magistratura, perché poi si dice che c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, ho capito, ma quando un magistrato ha 200 fascicoli sulla scrivania è possibile che poi, non è che parta dal primo in ordine cronologico e vada in ordine, selezionerà fra i casi che gli sembrano più rilevanti e quelli che possono aspettare, non solo, ma poi vi ricordo che siamo un paese in cui la magistratura rivendica il principio della cosiddetta libera discrezionalità del magistrato. Questo spiega perché davanti a identiche situazioni un magistrato si orienta in un modo e un altro magistrato in maniera radicalmente opposta, anche perché a differenza di quello che abbiamo imparato dai film americani, o almeno che io ho imparato dai film americani, è che in America quando si dibatte e lì ci sono tre soggetti, l'accusa, la difesa e il terzo, il giurio. In Italia non abbiamo ancora la separazione delle carriere, vabbè adesso ci stiamo, mi scusi professore, perché poi parlando con lei e ascoltando quello che diceva mi vengono in mente che ha cascata anche sul fronte della gestione della pandemia, in Italia non paga mai nessuno, perché l'individuazione della responsabilità avendo il policentrismo è uno scaricabarile, non è mio, lo Stato, la Regione, la provincia, il Comune, il Sindaco, il Consiglio Comunale, la circoscrizione, il condominio, l'amministratore del condominio, l'inquilino, oltre all'inquilino poi ci si ferma. Vabbè professore, stamattina mi sono permesso in un altro spazio, quello che ho alla radio, di ricordare a proposito dei vaccini un altro dettaglio che però mi pare che sia giusto ribadire, almeno sul piano della profilassi, che vaccinarsi il lunedì non significa che da martedì tu sei immunizzato, perché l'altro messaggio che secondo me non è stato molto chiaro nella vicenda di cui anche lei si è occupato, AstraZeneca sì, AstraZeneca no, AstraZeneca boh, i rapporti con gli altri, è che non si è spiegato bene che se ti fai il vaccino c'è un periodo, una finestra in cui non sei immunizzato, ho sbaglio? Assolutamente sì, questo errore l'hanno fatto anche gli inglesi purtroppo, ci sono dei dati che rivelano che molti anziani vaccinati si sono infettati perché sono usciti con il complesso dell'invulnerabilità di Nembo Kid. Questo lo si sta lentamente capendo, però non si sta capendo tutto, perché non è difficile se il medico ha un minimo di coscienza di vaccinare una persona e dirgli ma caro signore lei comunque guardi che prima di 10-15 giorni non è protetto, faccia attenzione, si comporti come prima, questo si può fare, anche se non so se viene sempre fatto, ma quello che non si dice è che il grado di protezione dipende dal vaccino che fai, quindi se ti tocca come ad esempio a me un vaccino di serie B sei protetto di meno che se ti tocca un vaccino di serie A. Ma la seconda cosa che non si dice è che anche se il vaccino ti dà un grado più o meno alto di protezione rispetto alla malattia non sappiamo ancora, perché non ci sono ricerche scientifiche conclusive, se e quali vaccini permettono alla persona che li ha assunti di non trasmettere il virus. Sembra abbastanza sicuro che il vaccino Pfizer abbia questa proprietà o ce l'abbia in misura considerevole, tecnicamente alcuni parlano di efficienza del vaccino, il vaccino è efficiente se chi è vaccinato non solo non si ammala ma non trasmette. Quanto a AstraZeneca ci sono molti dubbi che questo succeda, quindi io vedo il grosso rischio che quest'estate complice la voglia di vacanze e il bisogno di risarcimento che gli italiani sentono, ci siano milioni di persone che girano con un falso senso di sicurezza e diventano molto pericolose per gli altri, perché la gente tende a pensare che se sei vaccinato non solo non ti ammala, ma non sei un pericolo per gli altri. Ora questo non si sa con sicurezza per nessun vaccino. Tecnicamente si dice che il vaccino non è sterilizzante, cioè non sterilizza il virus e permette la riproduzione all'interno della persona e nel contatto con altre persone dell'infezione. Finché non abbiamo questo dato la tranquillità non possiamo averla. Sì, io ho letto questa mattina un articolo che diceva, ricordatevi se avete fatto Pfizer o farete Pfizer o Moderna, che l'immunizzazione scatta dopo una settimana dal richiamo, cioè dalla seconda dose, non dalla settimana, la prima dose, l'intervallo, la seconda dose, dopo la seconda dose scatta almeno una settimana. Per AstraZeneca invece le settimane, così scriveva il giornale, sono tre. Io ho detto alla radio che per tranquillità, essendo anche ipocondriaco ed essendo un sessantenne in lista d'attesa, sono un giornalista ma non salto la fila, non vedo voi perché, dal momento che appunto come ricorda il professor Ricolfi abbiamo le persone anziane. Ricordo che il dato, anche questo l'ho letto ieri, veniva ricordato in una delle tante tabelle, che l'età media dei deceduti è tuttora di 81 anni. Poi ho sempre detto che questi dati aggregati così, ma come i bollettini, no professor Ricolfi, bollettini quotidiani che venivano fatti durante il precedente lockdown, quello della primavera 2020, dove si davano i dati, ma nessuno ti spiegava poi come, cioè ci sono 10.000 nuovi casi, benissimo, sintomatici, non sintomatici, sintomatici curati a casa, sintomatici portati in ospedale, portati in ospedale e lasciati in un reparto, no messi in terapia intensiva e poi più al nord o più al sud, più uomini o più le donne, cioè una cosa, invece si buttavano i dati così, che alla fine io, nella primavera scorsa, nel mio spazio, dissi, scusate io il bollettino ve lo do una volta alla settimana, perché il bollettino giorno per giorno genera ulteriore confusione. La ringrazio professor, invece mi hanno detto ti vuoi chiamare fuori dalla lotta, ma la lotta a cosa? Cioè che cosa faccio quando faccio comunicazione confusa? Aggravo la situazione, mi chiamo fuori, lo dico una volta alla settimana rispetto a una settimana fa, ci sono X casi in più, poi abbiamo scoperto che alcuni casi erano stati registrati dopo, poi prima alcuni erano tarroccati come è successo in Sicilia. Soprattutto teniamo conto di una cosa, giustissimo che i ragionamenti si possono fare solo su base settimanale, ma in realtà bisogna anche fare delle correzioni dei dati, perché ad esempio il numero di tamponi influenza enormemente il numero di casi, per cui la dinamica dei casi se non viene corretta con il numero dei tamponi non va bene, però la correzione che fanno i giornalisti e le autorità sanitarie è una correzione inadeguata, non basta dividere per i tamponi, ci sono delle formule più complicate che si devono usare, ma soprattutto manca quello che io chiamo il moltiplicatore, cioè ogni paese ha un moltiplicatore diverso. Mi spiego, se lei in Islanda oggi ha 100 casi, i casi reali probabilmente sono 110 o 120, ma se lei ha 100 casi in Italia, i 100 casi sono 400, mentre in Germania sono 300. Cosa vuol dire? Che abbiamo un moltiplicatore che è 4 per l'Italia, 3 per la Germania, esemplifico o semplificando, che dobbiamo applicare a seconda del paese che stiamo considerando. Quindi quando ci dicono abbiamo solo 1000 casi, no, in Italia tipicamente quei 1000 casi sono 4000, il moltiplicatore tra l'altro non è costante nel tempo, è anche piuttosto difficile da stimare, quindi tutti i dati che ci vengono propinati, anche se noi li analizziamo su base settimanale, sono molto, molto poco informativi. L'unico dato veramente informativo, anche se imperfetto, sono i morti, perché su quelli tendiamo a pensare che quasi tutti siano, all'inizio no, all'inizio anche quello era fuorviante, perché c'era tutto il numero scuro dei morti non dichiarati, che rilevavamo in base alla mortalità effettiva della popolazione, confrontandola col passato, però adesso si può pensare che nei paesi avanzati il numero di morti sia comparabile fra paesi e sia quello che viene denunciato, ma è l'unica statistica che ci dà delle informazioni. Purtroppo ci dà delle informazioni su cose che sono successe due o tre settimane prima, perché non si muore subito. Tra la diagnosi e la morte passano circa 12 giorni, ma la diagnosi stessa precede e segue di alcuni giorni l'infezione, quindi ci sono 7-10 giorni tra l'infezione e la diagnosi, poi 12 giorni tra la diagnosi e la morte, quindi quando oggi ti dicono che ci sono stati 627 morti, vuol dire che 15-20 giorni fa le cose andavano in un certo modo. Quindi i dati per me sono il mio pane quotidiano, ma non bisognerebbe darli, bisognerebbe fare il punto ogni settimana con delle riflessioni piuttosto articolate sui dati fatte fare a delle gente che è in grado di farle. Ci sono alcune decine di persone in Italia che sono in grado di fare un'analisi sensata dei dati. Quelli che ci dà la protezione civile, ci danno le autorità sanitarie e fanno ridere, non danno praticamente nessuna informazione, eccetto i morti, ripeto. Mi verrebbe da dire, e non suoni come una battuta cretina o cinica o provocatoria, che l'unico malato Covid utile è quello morto, perché è esattamente sul numero dei morti su cui non si può discutere. Il resto, come avete appena sentito nella dettagliata ricostruzione del professor Ricolfi, è largamente opinabile, il che significa che a parte i telegiornali, i talk show, i giornali che riempiono da più di un anno quintalate di pagine, di ore di programmazione parlando del Covid, in realtà, come vedete, dobbiamo ancora dire, non dico che siamo all'interpretazione degli aruspici, però adesso battute a parte. Professore, scusi, visto che stiamo andando verso la chiusura, me ne dispiace perché il professor Ricolfi, lui lo sa, amo parlare anche a lungo perché la sua esperienza e competenza ci consente di toccare tasti diversi del pianoforte. Vogliamo dire qualcosa del Partito Democratico, visto che lei se ne è occupato in chiusura? Questa staffetta tra Zingaretti e Letta, Letta che adesso gioca di sponda con Giorgia Meloni, che essendo capo dell'unico partito dell'opposizione rivendica la presidenza del Copasi, che è la commissione che sorveglia i servizi segreti, che è in questo momento in mano la Lega, che sta al governo e quindi la Meloni dice deve andare all'opposizione, all'opposizione ci sono solo io e quindi lo prendo io. Letta appoggia, Letta e Enrico, il PD appoggiano la richiesta della Meloni, Matteo Renzi, Italia Viva, che pure si è incontrato con Letta dopo sette anni di dissapori, appoggia Matteo Salvini, che il Copasi non lo vuole mollare. Prego professore, parta da dove vuole. Ma guardi, io non so se sia vero, ma mi dicono, sento dire, anche in pubblico, non sto parlando di comunicazioni riservate, che i piani di Renzi hanno a che fare con problemi di difesa e sono piani personali, quindi lui probabilmente pensa che alla sua carriera pseudo-diplomatica la figura di Giorgia Meloni possa essere ostativa. Io tendo a pensare che ci sia semplicemente questo, magari con la Lega ha più possibilità di portare a termine i suoi piani, però questa è una congettura un po' maliziosa, può darsi che sia del tutto infondata. Però è la prima cosa che mi ha fatto venire in mente. Io non sapevo che Renzi si mettesse di traverso e Letta no. L'ho letto sui giornali stamattina. Ah, ecco. L'ho letto sui giornali stamattina. Non li ho ancora letti. No, no, un trafiletto proprio su questa scala con dispondenza di amorosi sensi incrociata. Io penso che in linea di principio abbia ragione Giorgia Meloni. Già è solo a fare l'opposizione, se le togliamo anche le prerogative, indipendentemente da quel che pensa Renzi o pensa a Letta. Quanto a Letta, io sono, non lo so come dire, sono molto esterefatto, perché arriva dopo sette anni e la prima cosa che dice è che bisogna fare lo use solely, dare il voto ai minorenni e fare l'alleanza con i 5 Stelle. Non lo so, peggio di così non capisco dove si possa andare, perché è ovvio che in questo momento la priorità non può essere di dare lo use solely. Probabilmente non lo è mai, perché la Svezia e l'Italia sono i paesi che riconoscono di più cittadinanza agli stranieri, cioè noi siamo avanzatissimi da questo punto di vista. Quindi è una bandiera ideologica per dire al popolo di sinistra sono arrivato, stiamo tornando noi, mi sto riprendendo l'identità che Zingaretti vi aveva tolto. E questo tra l'altro conferma una cosa che ho scritto in tanti miei libri, in particolare in sinistra e in popolo, cioè che la base sociale della sinistra, come aveva previsto del Noce 30 anni fa, sono i ceti medi, i ceti medi cosiddetti riflessivi o istruiti. La sinistra rappresenta, la sinistra non raggiunge neanche il 20% nel PD, rappresenta quel segmento di persone ben pensanti che appartengono fondamentalmente alle classi medie. Quindi con questa scelta letta ribadisce, noi della povera gente e degli operai non ci importa nulla, ci interessa non dico solo i salotti radical chic, ci interessa ciò che sta a fianco e sotto e di lato rispetto ai salotti radical chic, che sono gli impiegati, i tecnici, gli intellettuali, i lavoratori, gli insegnanti, i professori ben pensanti. Questa è la prima cosa che mi fa pensare questa scelta di letta. Poi per quanto riguarda l'immigrazione, io dico una cosa, che l'unica cosa non insensata dei 5 stelle è la posizione sull'immigrazione, che è una posizione che non è né aperturista né chiusista sui flussi migratori, ma che ha sempre cercato di barcamenarsi fra la linea salvinica eccessiva probabilmente e comunque è sgradevole, perché sono anche i modi che contano in queste cose, e la linea completamente autolesionistica della sinistra a sinistra. La sinistra a bulgrini. Di Maio è sempre stata, è lui che ha inventato l'espressione taxi del mare, che non è un insulto, è una constatazione, cioè una parte dei flussi migratori sono gestiti come un business e non riguardano tra l'altro povera gente, perché i sociologi questo non lo dicono, ma lo sanno, sono i ceti medi africani che emigrano, non sono i disperati, ma fondamentalmente il costo di tutta l'operazione è talmente alto che svuota l'Africa dei propri ceti medi interni. Quindi diciamo che Letta abbia fatto un'apertura sui 5 stelle, che è già un errore, perché la sinistra non dovrebbe allearsi, io su questo la penso come Sansonetti, una sinistra seria non si allea con un partito qualunquista. Ma dopodiché, l'unica cosa su cui potrebbe aver senso stare a ascoltare il punto di vista dei 5 stelle, la nega dicendo diamo lo gli ussoli. Allora, non lo so, mi sembra peggio di prima. Allora, rimaniamo con questa posizione interlocutoria, wait and see, mi faccia fare bella figura, il professor Ricolfi ha citato Del Noce, non Fabrizio Del Noce, dirigente televisivo, che era il figlio di Augusto Del Noce, che invece era, diciamo così, un filosofo e comunque un intellettuale che studiava la società che aveva davanti alla sua epoca e però in grado di individuare una tendenza, un thread. Professore, io prima della fine di questo ciclo di conversazioni la posso ridisturbare e facciamo un'altra mezz'oretta così, senza peli sulla lingua parlando in serenità e letizia? Ma molto volentieri, mi fa un enorme piacere. Bene, allora intanto le auguro una buona giornata, la ringrazio di essere stato con noi, con le fonti che continuano, domani ci ritroviamo qui con Edoardo Nesi, scrittore, ha vinto anche il premio strega e ha scritto un libro che si chiama Economia, tanto per rimanere nel tema delle fonti sentimentali. Buona giornata a tutti, a domani! Grazie a tutti!